Un'ordinanza per tutelare la produzione vegetale e l'allevamento degli animali. Il presidente della regione Donato Toma ha deciso di regolare gli spostamenti all'interno del comune di residenza e da un comune all'altro per lo svolgimento di attività agricole destinate all'autoconsumo familiare che possono essere effettuati nel rispetto del DPCM del 10 aprile scorso alle seguenti condizioni solo una volta al giorno e al massimo da due componenti per nucleo familiare. L'ordinanza discende dal fatto che l'attività di coltivazione agricola e di allevamento di animali destinati all'autoconsumo familiare può essere configurata come uno stato di necessità che consente lo spostamento delle persone anche all'esterno del proprio comune di residenza o di mora. La coltivazione di ortaggi e l'allevamento di animali destinati all'autoconsumo familiare costituiscono, si legge nell'ordinanza, un'estrinsecazione del diritto alla libertà alimentare annoverabile alla pari del diritto alla salute tra i diritti inviolabili dell'individuo. Le attività da svolgere si regge ancora nel documento devono limitarsi alle minime indispensabili operazioni culturali che la stagione impone ovvero all'accudimento degli animali allevati. Sottoposti a controllo sarà necessario comunicare i dati identificativi del terreno oggetto delle attività agricole e gli estremi del titolo che ne legittima l'utilizzo. L'ordinanza è efficace fino al 3 maggio data che coincide con la conclusione del lockdown deciso dal governo Conte. Il mancato rispetto delle norme imposte contenute nel provvedimento del governatore è punito con la sanzione che va da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3.000 euro. Grazie a tutti.